Buongiorno, sono Barbara Fabri, Assessora all'Ambiente del Comune di Monte San Pietro. Con questa iniziativa che abbiamo organizzato in occasione della SER, cioè della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che vede quest'anno in tutta Italia 3.500 azioni, noi aderiamo come Comune con un'iniziativa sul compostaggio. In questo incontro presentiamo il progetto Monte San Pietro ecosostenibile, con cui abbiamo partecipato a un bando della Regione e abbiamo ottenuto un finanziamento. Ci siamo posti l'obiettivo di capire come gestire in modo sostenibile gli scarti organici della cucina e del verde, del proprio giardino. Come? Ne parliamo ora in questo incontro che abbiamo chiamato Il rifiuto che non c'è dal compostaggio nasce un fiore, con Andrea Cocchi, tecnico esperto di compostaggio del Centro Agricoltura Ambiente. Prego. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io ho fatto una piccola presentazione che vorrei condividere con tutti voi. Quindi se me lo permettete, adesso passo con la condivisione del mio schermo e andiamo a visualizzare la presentazione. Io direi che se sei d'accordo, Barbara, possiamo iniziare a presentare questo bel progetto. Prima di presentarlo nei suoi elementi, diciamo, cruciali, vorrei parlare un attimino, in maniera molto veloce, senza atteggiare a nessuno, su cos'è il compostaggio. Io ho fatto nel corso, diciamo, degli anni, tante lezioni sul compostaggio e alcuni di questi slide sono molto affezionato perché me le sono portate dietro. Una di queste slide che qui vedete è una di quelli cui sono più affezionato. Perché? Perché c'è la definizione del compost. Che cos'è il compost? Cos'è? È un processo naturale che trasforma gli scarti organici in humus. Qui ci sono alcuni riferimenti dove ho tratto, diciamo, alcuni spunti e anche alcune foto. E ovviamente devo comunque, come posso dire, citarle. Ecco, vediamo che cos'è il compostaggio. Allora, il compostaggio, come vedete, è un processo naturale. Infatti, su in alto a destra vedete un'altra delle mie immagini che io amo veramente tanto. Adesso magari abbasso questa, così si vede meglio. che io amo perché da lì si capisce che dal sole noi è che è il fulcro centrale della nostra vita. Infatti dal sole si ha la fotosindese cronofiliana. Dalla fotosindese cronofiliana cosa succede? Succede che si attiva tutta la catena alimentare. La catena alimentare, che qui è data in maniera molto semplificata dai topolini, dalla civetta, ma poi arriviamo al momento cruciale del compostaggio. Il compostaggio viene fatto da chi? Da i decompositori e dai cosiddetti detretivori. Chi sono i detretivori? Ecco, proviamo a guardare un attimino meglio. Salgo con l'immagine. Ecco, sotto qui vediamo alcuni esempi. Ad esempio, il lombrico sicuramente è uno dei rappresentanti più famosi fra i detretivori. Però lì vedete anche tanti altri animaletti, no? Cioè, praticamente sono i primi che entrano in Sena. Subito dopo abbiamo, nella fase successiva, i cosiddetti decompositori. De decompositori che non sono altro che dei batteri, dei funghi e omiceti. Qui vedete alcune foto rappresentate. Mentre i primi detretivori, cioè, si vedono benissimo occhio nudo, i secondi molte volte ci vuole il microscopio per vederli. In generale, comunque, il processo di compostaggio si compone di due fasi. Una fase di bioossidazione, e se mettete vicino la manina sentite proprio che è caldo il compost. E una fase di maturazione, dove la massa deve rimanere tranquilla e stare lì in attesa, appunto, che madre natura la trasformi in terriccio. Gli organismi, tutti questi organismi, hanno una caratteristica che noi dobbiamo tenere ben presente. L'abbiamo esemplificata lì con una bombola. Che cos'è la bombola? È la bombola dell'ossigeno. Quindi ci troviamo di fronte a un processo che è cosiddetto aerobico. Perché è tanto importante, diciamo, il compostaggio? Se noi andiamo a vedere la composizione dei nostri rifiuti, quelli che buttiamo nella nostra pattumiera, ci accorgiamo che un 30-40% dei nostri rifiuti sono rappresentati da cosa? Da rifiuti organici. 30-40% in peso, chiaramente. Quindi è la parte principale dei rifiuti ed è, diciamo, la parte un po' più problematica normalmente per l'utenza. Perché magari fa cattivo odore, magari dà fastidio, bisogna raccoglierla spesso. Senza renderci conto che tutti questi fastidi in realtà possono diventare una grossa opportunità se noi le compostiamo. Il compostaggio, puzza? È la prima domanda che ci dobbiamo fare. No, se fatto correttamente il compostaggio non puzza. Questo che deve essere tenuto ben presente da tutti quanti. Il compostaggio non puzza. Puzza quando non è gestito bene. E la gestione deve partire, ricordatevi, dalla patumiera. Avere una patumiera bella e errata è la base principale per cominciare a avere un processo fatto bene. È un po' come la digestione nostra. La digestione dove parte? Parte dalla masticazione. È lì che parte. Una cattiva masticazione vuol dire sicuramente una cattiva digestione. Patumiera intendi un cestino di compostaggio da tenere in cucina, ad esempio. Esattamente quello. Qui vediamo che abbiamo alcuni metodi di compostaggio domestico o di autocompostaggio. Possiamo avere la compostiera cosiddetta fai da te, è tutti i metodi ammessi. Possiamo avere la compostiera commerciale, quella che viene acquistata ai Brico o altri. Che noi distribuiamo a richiesta, è incomodato d'uso gratuito. Non è proprio questa, ma insomma è la campana. Oppure il cumulo, ad esempio il cumulo è importante farlo quando noi abbiamo tanti scarti verdi. Abbiamo dei bei giardini grandi, a quel punto lì facciamo il cumulo. E poi la cosiddetta buca aerata. Volendo possiamo farlo anche lì dentro. Una buca però non che sia, come posso dire, in condizioni anaerobiche. Deve essere aerata, dove deve girare l'aria, ok? Perché, ripetiamo, il compostaggio domestico è un processo aerobico che necessita di aria. Andiamo avanti. Ecco, vediamo alcuni esempi di compostiere fai da te. E qui dipende dalla fantasia delle persone. Io nel corso degli anni ho visto migliaia di compostiere e vi dico che mi sono a volte stupito dalla fantasia che hanno queste persone nel farle. E molte volte, in maniera timida, mi chiedono ma io ho fatto bene? Certo che hai fatto bene. Sono tutti bravi. L'importante è mantenere il principio. Cioè il principio che deve essere un materiale in condizioni aerobiche, di respirazione. L'aria deve transitare e deve passare. E qualsiasi tipo di compostiere... Quella... Dimi? Scusa Andrea, quella che noi diamo ai cittadini incomodato d'uso gratuito è molto simile alla campana verde della foto in basso centrale che è in plastica. Quindi lì, io anche personalmente ne ho una casa, diventa importante gestire anche appunto la reazione spostando il coperchio, insomma, quando è troppo umido. Sì, è esattamente così. Cosa si può compostare e cosa non si può compostare? Allora, sicuramente tutti gli scarti che provengono dalla cucina, che hanno una degradazione, possono essere compostati. Quindi vediamo alcuni esempi. Scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, e gussi, pane a moffito, fiori, piccole quantità di cenere spenta, carta da cucina, quindi anche la carta può andare bene. Non va bene tutto ciò che non è organico. Metalli, plastica, vetro... Ok, gli escrementi animali teoricamente sarebbero organici, però, insomma, si può evitare di metterli anche se chi le mette alla fine diventa un organico e diventa un compost anche questi. Si sconsiglia, prima si sconsigliava la carne, il pesce, i formaggi, la pasta, cioè tutti quegli, diciamo, tutti quegli alimenti che attirano chi? I nostri amici tupolini. Una delle principali ragioni di abbandono del compostaggio è la presenza dei eroditori. Possibile. Sì, sì, possibile. È una delle principali cause, quella che ho visto. Ecco, e la seconda causa sono i cattivi odori. Ecco, la prima causa, cioè il topo, può essere, come posso dire, risolto questa problematica del eroditore con cosa? Con delle compostiere rotanti. Comune di Monte San Pietro darà, in sperimentazione, 15 compostiere rotanti. Dentro le compostiere rotanti si potrà mettere anche la carne, il pesce, e vedremo come i formaggi e la pasta, cioè questi materiali potranno essere, con la piena tranquillità che lì dentro i eroditori non ci andranno, ok? Io, è più di un anno che lo sto usando a casa mia e vi posso dire che dentro dei topi non ce ne sono, ok? Posso interromperti un secondo? Allora, io ho la compostiera statica, la comperai ancora prima che il comune avesse deciso di distribuirla, ce l'ho dal 2004, quindi sono 16 anni, mi è capitato in 16 anni una volta sola di avere un problema con qualche topolino e poi però sono andati via, insomma sono riusciti a allontanarli, quindi in 16 anni solo una volta. Questo dell'acquisto delle 15 compostiere rotanti è proprio perché ci interessa capire l'effettiva digeribilità di questi materiali che solitamente, di questi scarti che solitamente non vanno in compostiera, proprio perché possono attirare animali. Quindi con questa sperimentazione fatta col supporto, la collaborazione dei cittadini, intendiamo fare questa verifica come comune. Ecco, qui vediamo quali sono le regole di base per il compostaggio, bisogna trovare la giusta collocazione, magari sotto un albero caduciforie, miscelare bene gli scarti umidi con quelli più secchi, sminuzzare gli scarti, cioè più, vediamo, sono più fini è il materiale che introduciamo nella compostiera, prima si fa. Fare rimescolamenti, ecco, è un'altra operazione importante, perché oltre a omogeneizzare il materiale è molto importante anche perché così si dà una reazione anche al rimescolamento. Mantenere sempre errata la massa, quindi cosa vuol dire? Bisogna fare un cumulo in maniera corretta in modo che ci sia la parte secca che normalmente potrebbero essere anche dei rametti, che questi rametti danno porosità e quindi quando c'è porosità vuol dire che passa l'aria e se passa l'aria siamo in una fase aerobica. Tutte le volte che sentiamo, tenete conto, cattivo odore, cosa vuol dire? Vuol dire che non ci troviamo di fronte a un compostaggio, vuol dire che quei famosi microrganismi di cui parlavo prima sono in una posizione, diciamo, secondaria. Ce ne sono degli altri in posizione più avanzata nel caso di un processo anaerobico che sono tutti quei, diciamo, microrganismi che portano ai cattivi odori. Quindi cattivo odore vuol dire che non stiamo compostando bene, proprio non stiamo compostando e dobbiamo porci il rimedio perché a volte può succedere di avere dei cattivi odori. chiaro che, insomma, se io apro la mia compostiera, sento un po' di odore, insomma, va bene, questa è una cosa normale. Se però a distanza di due o tre metri sento dei bei olezzi, vuol dire che c'è qualcosa che non va. a mantenere giusta umidità è molto importante, soprattutto nel periodo estivo. Aggiungere acqua, la cosiddetta prova del pugno potrebbe, anche se fa un po' schifo, magari fatto con un guanto, potrebbe suggerire. Controllare la temperatura, come ci sono i termometri oppure con la mano. Cioè con la mano, mettendo la mano, si riesce a capire se il processo è attivo e lo si capisce appunto grazie all'aumento della temperatura. Abbiamo parlato prima di miscela ideale. Eccola qua. La miscela ideale è una miscela dove cerco di raggiungere il giusto rapporto carbonio-azoto. Ok? Il giusto rapporto carbonio-azoto mi viene dato, ecco, questo è 20, diciamo 31, 30 parti di carbonio e uno di azoto. Ecco, questo non vorrei spaventare, non è che bisogna diventare dei piccoli chimici. Semplicemente, ricordiamoci, se andiamo a vedere le tabelline del rapporto carbonio-azoto, scusate che stanno andando, eccole qua. Ecco, qui vediamo gli scarti di cucina che hanno una componente azotata direi elevata. Infatti il rapporto carbonio-azoto è 12,20. Anche gli sfalci d'erba sono ricchi. Se però scendiamo, vediamo le cortecce, quindi tutto il materiale legnoso tende ad avere un rapporto carbonio-azoto elevato, quindi vuol dire che c'è tanto carbonio. Ecco, noi cerchiamo sempre di miscelare la parte più umida che è più ricca ad azoto con la parte più secca che è più ricca di carbonio e cerchiamo sempre di farlo, ricordiamoci di farlo perché è essenziale oltre che per dare porosità anche per migliorare questo rapporto nutrizionale per i microrganismi. Ok? Scusa Andrea, carta e cartone naturalmente sminuzzati, cioè un po' piccoli pezzi. Piccoli pezzi. E fare degli strati magari. E rimescolare. Io non sono tanto per gli strati. Gli strati. Rimescolare, cioè mettere dentro e rimescolare. Ecco, vediamo a questo punto, cominciamo a vedere tutte le novità del nostro progetto. Quali sono le novità? Diciamo che le novità ne abbiamo vediamole tutte. Partiamo prima di tutto con le compostiere rotanti. Cerchiamo di adottare e sperimentare due modelli di compostiere rotanti nel comune di Montessampietto. Quella diciamo a doppio corpo a sinistra e quella a corpo unico che è a destra. Ecco, vediamo un attimo quali sono le caratteristiche diciamo di queste compostiere rotanti e cerchiamo di capire quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi. Allora, i vantaggi quali sono? Che il rimescolamento è molto semplice perché io ruoto. Io ruoto e non devo stare lì con dei badilli o con altre robe. I roditori non hanno accesso. A questi vantaggi però abbiamo notato nelle primissime sperimentazioni che possono esserci degli svantaggi e quindi qualche problematica che non è assolutamente insorbontabile tutt'altro. Le compostiere sono piccole e quindi sono da utilizzare solo con scarti umidi e materiale strutturante. Cioè, sicuramente se abbiamo un bel giardino grande come ho detto prima dobbiamo fare il cumulo. Lì dentro non ci sta. Non essendo a contatto col terreno la partenza del processo è difficoltosa. quindi questo abbiamo riscontrato una difficoltà a far partire bene il processo. Le compostiere a doppio corpo vanno tendenzialmente rinforzate con delle reggette perché altrimenti tendono ad aprirsi. La compostiera a corpo singolo è bene non riempirla tutta quanta ma quando sei arrivato a metà sei a posto perché poi se no non riesci a fare la rotazione. queste sono i primi osservazioni che possiamo avere ma vediamo un attimo quali sono le modalità di utilizzo. Allora va collocato innanzitutto nel giardino sul terreno ok non mettetela su terrazzi oppure su pianciti mettetela su dove c'è erba dove c'è terra ok mettere una manciata di terriccio o di compost non maturo all'interno questo fa come da starter il terriccio e il compost non maturo è pieno di microrganismi sono quelli che servono per far partire il processo nel caso della compostiera dopo corpo iniziare a riempire un corpo e poi il successivo nel caso della compostiera corpo unico riempirla e non superare come ho detto prima la volumetria del 50% altrimenti diventa difficoltoso il rivoltamento ogni volta che si introduce l'umido di cucina aggiungere un pari quantitativo di materiale secco come foglie rametti corti o frantumati e se proprio manca questo materiale potrebbe andare bene anche il pellet ok quindi tutte le volte che io metto dentro l'umido devo mettere un pari quantitativo di materiale secco questo ricordatevelo sempre più il materiale introdotto è fine quello che dicevamo anche prima e prima si fa a compostare poi quando io ho introdotto il mio materiale fare una decina di rotazioni dopo che è partito bene il processo dopo circa uno barra due mesi noi possiamo cominciare a pensare anche di metterci la carne il pesce alla pasta una volta raggiunto il volume massimo si può svuotare nel caso che non siano mature ed è probabile soprattutto nel periodo invernale ecco in quel caso lì uno lo estrae e dopo il materiale che non è maturo deve essere lasciato maturare dove? o nelle vecchie compostiere se uno ce le ha oppure semplicemente in un cumulo ok si accumula lì e si lascia lì tranquillo fino a che il materiale non è diventato maturo ecco l'altra questione importante è che a tutte le persone che faranno questa sperimentazione noi consegneremo un modulo che chiederemo cortesemente di compilare e questo ci aiuterà a capire cosa dobbiamo fare per favorire la partenza ci possono essere anche dei trucchi tipo quello del lievito prendiamo il lievito e lo sogliamo in acqua tiepida e zucchero e poi dopo la distribuiamo dentro il cumulo se puzza perché potrebbe succedere che all'inizio quando si non parte bene il processo possono esserci dei cattivi odori questo può essere è un'altra cosa che abbiamo notato ecco è chiaro che ci si dovrà impegnare a far partire bene il processo a fare le rotazioni ad ariaggiare come ho detto prima ma se proprio diventa una roba complicata soprattutto nella fase iniziale in quel caso lì si potrebbero aggiungere alcune polveri tipo l'itotamio bentonite ecco l'aziolite anche sono tutti materiali che vanno bene ad esempio ho usato ultimamente l'itotamio e mi sono trovato bene dove si trovano io li ho acquistati su internet dico molto sinceramente li ho acquistati altrimenti nei negozi di giardinaggio si trovano no non è semplice lo si trova preferibilmente su internet ci sono vabbè io adesso non vorrei fare pubblicità a queste però insomma se voi mettete l'itotamio lo cercate riuscite certamente a trovare tutti i negozi che vi possono rifornire direttamente a casa a domicilio sono molto utilizzate anche dai biodinamici ecco vi ho dato un altro spunto per trovarlo e qui in Emilia Romagna abbiamo un luogo nel Reggiano dove proprio fanno la vendita di tutti i prodotti biodinamici fra i quali anche questi tra l'altro ha dei prezzi molto interessanti un altro spunto anche su ordinazione anche su ordinazione anche su ordinazione ok poi se ne volete sapere mi contattate contattate il comune possiamo darvi una mano a trovare questi materiali qui ok l'altra grande novità è una compostiera stile francese perché i francesi sono stati i primi ad adottarle sono delle diciamo delle compostiere in legno che verranno utilizzate per gli ortolani dell'orto il biricoccolo anche in questo caso qui è una compostiera di tipo statico a due camere dove viene prima rampita una camera e poi dopo successivamente la seconda camera ok e dopo sei mesi si spera che già nella prima camera ci possa essere già qualche materiale interessante da cominciare a riutilizzare nell'orto quindi circolarità in questo caso delle azioni che stiamo cercando di portare invece di buttare questi rifiuti dentro le pattumiere guardate un po' gli diamo come posso dire una circolarità nel senso che diamo l'occasione all'ortolano di riprodursi da sé il terriccio che poi riutilizzerà nel proprio orto altrimenti cosa fai lo vai a comprare invece di comprarlo te lo fai da te aggiungo che abbiamo pensato proprio di fare questa sperimentazione all'orto perché quando si riuscirà speriamo presto a fare nuovamente gli incontri in presenza potrebbe essere proprio l'orto biricoccolo il luogo dove fare degli approfondimenti degli incontri tematici proprio sul tema compostaggio ok adesso vado avanti andiamo a vedere ecco prima di introdurre una delle novità più importanti che riguarda questo progetto volevo parlarvi un attimo del giardino sostenibile il giardino sostenibile fra l'altro se andate sul sito del comune dopo vediamo i riferimenti potrete ottenere tutte le informazioni che volete attraverso una brusura che è stata fatta qualche anno fa ma vi garantisco che è ancora valida allora giardino sostenibile cos'è? è un giardino che è stato concepito ideato in maniera tale da produrre meno rifiuto perché prevenire è molto meglio che andare a compostarle quindi se cerchiamo di adottare tutte quelle tecniche che fanno sì che produciamo meno verde diciamo che è la cosa migliore ecco uno dei primi elementi noi arriviamo in una casa nuova che è bello ci vediamo questo bel pratone la prima cosa che facciamo perché vogliamo che questo pratone venga subito sia bello rigoglioso piantiamo un sacco di piante senza considerare che il raggio di pertinenza di una pianta è di 2-6 metri come scritto qui magari senza considerare i confini delle proprietà delle strade dai fabbricati dall'utenza senza considerare che le piante crescono e quando crescono dopo cosa facciamo le potiamo le capituziamo le massacriamo senza una ragione a questo punto semplicemente perché abbiamo progettato male il nostro giardino la pianta si dice dicono va potata la pianta ci fa la legna la pianta se la potiamo si rinforza ecco questi sono tutti luoghi comuni in realtà una pianta che non ha particolari problemi non ha nessuna necessità di essere potata tante volte noi la potiamo semplicemente perché perché è troppo vicino all'edificio perché è troppo attaccata la strada perché abbiamo progettato male il nostro intervento di piantumazione all'inizio volevamo vedere tanto verde ma poi le piante come ho detto crescono a questo punto consideriamo che ci sono dei regolamenti non devono essere fatti dei tagli sopra i 10 cm questo consideratele perché sono a meno che non si parli di abbattimenti chiaramente però non devono essere fatti dei tagli oltre 10 cm vanno anche rispettate in modo corretto di potatura nelle immagini seguenti qua lo vediamo non vanno fatte va rispettato il taglio del colletto qui si vede e non vanno fatti dei tagli rasi altrimenti la pianta non riesce a reagire non riesce a cicatrizzare la propria ferita e da lì si innesca la carie se si innesca la carie la pianta diventa debole ok e se diventa debole diventa pericolosa e quindi dopo un po' dopo qualche anno ci dovremmo essere costretti ci troviamo a toglierla a eliminarla ecco altra cosa che non va fatta sono le capitozzature le capitozzature sono pericolosissime sono fonte di carie sono fonte del fatto che noi vediamo dopo un gran rigoglio della pianta ma è un rigoglio falso perché la pianta si dice che scopazza cosa vuol dire che fa tanti rammoselli che con l'effetto vela del vento dopo poi si rompono e ci arrivano in testa ok quindi una pianta capitozzata è una pianta che non va bene quindi impariamo sempre a tenere le giuste distanze nel regolamento del verde ci sono tutta una serie di indicazioni dal diametro dei tagli che abbiamo detto prima dall'epoca di potatura a tutto ciò che è vietato ok altra buona pratica che si può fare ad esempio è quella del mulching cioè se io ho un bel prato fare una frequenza di taglio settimanale a 5-6 cm può essere un buon modo lasciando lì il materiale anche per concimare e per migliorare la condizione del nostro prato senza andare a raccoglierne e dopo magari doverli compostare o ancora peggio consegnare al servizio pubblico ecco adesso passiamo una volta che abbiamo individuato che fare un giardino in maniera corretta si produce meno verde però quando il verde ce l'abbiamo cosa succede? Di solito noi chiamiamo il servizio pubblico consegniamo il servizio pubblico consegniamo oppure portiamo il nostro verde dove? Lo portiamo al centro di raccolta e questo correggimi se dico il falso Barbara sta diventando un grosso problema un grosso problema per diciamo l'occupazione di spazi enormi e anche un costo veramente significativo e allora si sta pensando di fare un'operazione alternativa cioè la triturazione a domicilio diciamo delle ramaglie e delle potature quindi ci sarà la possibilità di prenotare questo servizio ci dovrà essere un'area diciamo accessibile a un furgone anche in caso che sia bagnato no? cioè non si deve piantare il furgone il servizio è accessibile con un minimo di 0,5 metri cubi e un massimo di 2 metri cubi di materiale poi con cosa cosa verrà fatto verrà praticamente tritato a domicilio verrà lasciato questo materiale e triturato che noi chiamiamo cippato e questo cippato diventerà la base principale per fare il compostaggio ma poi può essere anche utilizzato per la paccematura volendo oppure ancora per il famoso BRF che dopo vediamo che cos'è quindi come ho detto prima può essere utilizzato per la paccematura ecco considerate questo quando andrete a fare la paccematura aggiungo solo aggiungo Andrea che nel progetto Monte San Pietro ecosostenibile abbiamo previsto un numero circa 80 interventi gratuiti per i cittadini perché siamo nella fase di sperimentazione quindi ci sarà la possibilità di prenotarli e in fondo abbiamo appunto predisposto le informazioni utili in fondo a questa presentazione giusto con la paccematura cerchiamo di evitare di metterlo proprio attaccato al tronco e manteniamo un po' di distanze perché poi altrimenti potrebbero succedere che si diffondano dei funghi nelle piante ok il BRF che cos'è sono praticamente è un trinciato di rami che viene praticamente distribuito sul terreno normalmente si prende delle latifoglie massimo 20% di codifere viene tritato sotto i 7 cm poi da settembre a febbraio vengono distribuiti diciamo sopra il terreno ecco vengono distribuiti a uno spessore di 3-4 cm soprattutto il terreno dove noi andiamo a coltivare il nostro orto questo dà dei vantaggi enormi prima di tutto migliora certamente la struttura del terreno che diventa più ricco diventa più fertile e diventa più produttivo e soprattutto ci permette di non consumare tanta acqua qui abbiamo un esempio di un incontro che si è tenuto qualche anno fa proprio a Monte San Pietro dove è stato chiamato diciamo il traduttore di questo di questo libro che si chiama Philippe Lemoussou che è un genovese di origine francesi e in questo libro viene descritto diciamo come si deve fare a fare un buon BRF si può anche andare sul sito della quarantina punti tic e lì ci sono altri elementi che si possono trarre per fare un buon BRF la legna grossa chiaramente può servire da ardere il compost che poi alla fine noi otterremo dal compostaggio noi lo possiamo distribuire nei nostri terreni facendo finta di avere un terreno agricolo o no gli agricoltori di solito distribuiscono 36 tonnellate più o meno per ettaro per riuscire a integrare la quota di sostanza organica che viene mineralizzata durante gli anni da questo punto di vista direi che ci possiamo avviare alla conclusione ci avviamo alla conclusione con questo ragionamento prima di tutto risumiamo i contatti e le informazioni di tutti questi bei progetti che abbiamo messo in piedi la prima informazione che vorrei dare è questa che nel sito e qui vedete il link del comune di Monte San Pietro potrete trovare tre manuali un manuale pratico sul compostaggio un manuale per le pratiche del giardino sostenibile come ho detto prima un'istruzione su come autocostruirsi una bella compostiera aerata per accedere al servizio di compost di trutturazione della ramaglia a domicilio e per richiedere una compostiera di quelle normali statiche si può scrivere ad ambiente chiocciolo comune punto montosampietro punto bo punto it oppure chiamare l'ufficio ambiente 051 67 64 459 vuoi aggiungere qualcosa Barbara? Sì con questa immagine ci domandiamo appunto se questo che consideriamo rifiuto possa diventare una risorsa in questa presentazione si è parlato molto di roditori di cattivi odori la mia esperienza personale di 16 anni di compostiera è che non è così difficile gestirla non è così difficile soprattutto una volta avviata lavora tantissimo tanto che ricordo quando rientro dalle vacanze insomma estive anche solo dopo due settimane quello che era materiale che quasi la riempiva si riduce si è sempre ridotto di tantissimo della metà praticamente anche in pochissimo tempo speriamo di aver dato un po' insomma con questa presentazione con questa carrellata di aver toccato un po' tutti gli aspetti però se dovessero esserci da parte dei cittadini dei dubbi ripetiamo che possiamo che possono scriverci alla mail che ha indicato prima noi te la gireremo visto che collaboriamo da tanti anni con Andrea Cocchi col centro agricoltura ambiente proprio per il controllo insomma e il supporto per tutti i temi legati al compostaggio grazie a tutti per l'attenzione speriamo di non avervi ridotto come il nostro bravo leoncino e buona serata a questo punto a tutti quanti grazie per l'invito a Barbara Fabri grazie a te ok alla prossima grazie